La rigenerazione della scuola a cui rimanda il piano riguarda nello specifico i saperi, i comportamenti, le infrastrutture e le opportunità. Una visione funzionale a un ripensamento radicale della nostra scuola nello sfondo e su sollecitazione delle enormi sfide che l'umanità nei prossimi anni è chiamata ad affrontare. Le informazioni e le proposte operative che saranno presentate durante il corso possono costituire per i docenti strumenti utili per affrontare il cambio di paradigma segnato dalla transizione ecologica e culturale delle scuole. Si parlerà anche di rigenerazione scuola e piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025, come il piano rigenerazione scuola entrerà a far parte del piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025. Grazie a tutti!